Con vetrina toscana oggi andiamo a Castelnuovo Garfagnana che dal 5 all'8 dicembre diventerà la città della castagna. Dal 5 all'8 dicembre a Castelnuovo si svolge come ogni anno la tradizionale manifestazione legata alla castagna e soprattutto alla presentazione della farina di neccio DOP che esce proprio la prima domenica di dicembre. Ormai sono molti anni che questa festa viene fatta, è molto conosciuta, domenica 6 dicembre arriverà anche un treno a vapore speciale dalla Spezia, quindi generalmente sono 300-400 persone che arrivano con la locomotiva a vapore per visitare poi la manifestazione. Oltre alla polenta di neccio che viene fatta nella piazza ci sono poi anche molte degustazioni e soprattutto molti espositori sia dell'artigianato sia anche del prodotto tipico. Regina della festa sicuramente la farina di castagne ma anche tutti gli altri prodotti dai formaggi alle confetture ai mieli anche molto importanti che vengono esposti dai produttori locali. Abbiamo incontrato anche due ristoratori che ci hanno fatto gustare alcuni piatti tipici del luogo a base di castagna. È sempre stato un prodotto molto importante per Castelnuovo e per la Garfagnana. Basta ricordare che durante la guerra mondiale è stato quello che ha permesso ai Garfagnini di poter sopravvivere. In questi ultimi anni la castagna è stata riscoberta in maniera molto decisa grazie alla manifestazione che Vedrina Toscana organizza a Castelnuovo per la città della Castagna. Durante il periodo presentiamo la farina di OP della Garfagnana, un prodotto di qualità, ben fatto, realizzato sempre nella vecchia maniera utilizzando le immagini come veniva fatta una volta. Abbiamo qui un esempio di questa che è una farina che facciamo noi in Garfagnana. Con questo noi abbiamo preparato alcuni piatti che abbiamo il piagere di illustrarvi. Abbiamo fatto un primo piatto che sono delle pappardelle di farina di castagne che siamo andati a condire con un burro, panna, rigorosamente vegetale, quindi ideale anche per le persone allergiche a latticini. Abbiamo inserito del pepe nero e del pepe a grani rosa. In che modo si prepara questo piatto? Questo piatto, prima di tutto, dobbiamo realizzare la pasta. Noi, rigorosamente, la pasta la facciamo qualche ora prima. Facciamo l'impasto con un 30% di farina normale e un 30% di farina di grano duro. Una volta impastata la lasciamo riposare all'interno della gella, a volte in un panno, e poi la andiamo a lavorare come si lavora le tagliatelle in casa, spianandole a mano e tagliandole a fette. Poi la cottura della pasta di castagne è una cottura molto veloce, all'incirca una pappardella come la nostra impiega 4-5 minuti, perché comunque è una pasta che non deve rimanere molto molle, ma più che altro deve mantenere una certa croccantezza all'interno. Poi andiamo a preparare il sugo, mettiamo a sciogliere leggermente la bagnomaria un po' di burro, aggiungiamo, come ho detto, della panna vegetale, delle bacche di pepe rosa e del pepe macinato. Poi, una volta che le tagliatelle sono gotte, le andiamo a saltare in padella e al momento che le mettiamo nel piatto andiamo ad aggiungere del pegorino gabrino garfagnino macinato sopra. Noi già da molti anni abbiamo addirittura a Veterinia Toscana, che effettivamente si è rivelata un utile mezzo per la promozione dei prodotti tipici della Toscana. Molto interessante perché dopo ogni anno vengono sempre sfornate delle nuove idee, per quanto riguarda le varie degustazioni, le giornate sulla castagna, le giornate sull'olio. Quindi è molto utile anche perché spinge i vari ristoratori ad acquistare i prodotti tipici della Toscana. Voi oggi avete preparato delle degustazioni, tutte a base di castagna. Saranno le solite degustazioni che presenterete per la festa della castagna, qua a Castelnuovo? Sì, ecco, noi avendo più che altro, più che un ristorante è una semplice osteria. Quindi facciamo molte cose magari col pane di farro, avveniamo il pane di farro al nostro lardo della Garfagnana, al nostro Biroldo, che è un presidio slow food. Poi facciamo anche delle piccole polentine calde con gli ossi di maiale. Quelle vengono fatte soltanto quella di domenica lì perché è una cosa un pochettino speciale. E poi non può mancare mai qua nelle nostre degustazioni il famoso castagnaccio con la nostra ricotta di pecora. Abbiamo incontrato anche alcuni dei più importanti produttori di farina di castagne. Voi in particolare che cosa producete? Noi produciamo in particolar modo la farina di castagne, raccogliamo le nostre castagne, i nostri castagneti di proprietà, poi dopo le mettiamo a seccare nel nostro metato e le portiamo a macinare e facciamo la famosa farina di castagne. Con questa farina che cosa si può preparare? Noi nell'agriturismo prepariamo da tutto, dal pane, dalla pasta, gnocchi. La cosa più comune qua da noi invece sono le frittelle, la polenta. Praticamente è una farina che si adatta a tutto. Nei giorni dedicate alle castagne che cosa presenterete? Noi presenteremo in modo molto particolare la polenta e poi qualcosa di particolare tipo gli gnocchi di castagne o le tagliatelle alle castagne. Noi praticamente in azienda svolgiamo il ciclo completo della raccolta e della produzione della farina. La raccolta viene svolta come in antichità, cioè tutti i giorni a mano viene raccolta la singola castagna, la castagna viene portata poi nel metato per un periodo di circa 40 giorni. Successivamente, una volta pronta per essere macinata, la maciniamo nel nostro mulino, funzionamento ad acqua, che produce una delle poche farine di castagne col marchio DOP.